Ciao ragazzi, qui Degimanti con Super Meat Boy Quindi, start game Finalmente sono riuscito a battere il boss E vedete qua, Rapture Quindi, questo qui E' stato battuto, quello lì Perché sono riandato qua? Vabbè, era per Farvi capire meglio Quello lì, come potete vedere, è stato battuto Quindi siamo arrivati qua Vi faccio vedere il video Introduttivo, dato che non l'ho visto neanche io Comunque, quindi Devo, c'è, quindi è nuovo anche per me Eeeh Dopo il boss, non mi ricordo Aspettate, forse è troppo forte la La lampada Dopo il boss, non mi ricordo O forse no, vabbè, chi se ne frega Eeeh Cosa sta succedendo? Ecco, lo sapevo Ecco, abbiamo picchiato uno che sembrava lui Ho detto, oddio, sta finendo il gioco Stiamo picchiando il nemico Invece no, non era lui Comunque, aspettate che la, diciamo così Me la basso negli horror E qua me la tengo abbastanza alta Ecco, così dovrebbe andare Eeeh Come potete vedere ho fatto cinque livelli Giusto per vedere se era fattibile Però, essendo un let's play Eeeh Il gioco deve essere registrato in modo completo Quindi, eeeh Li rifarò qua insieme a voi Era solo per vedere un po' com'è che erano Se erano fattibili, queste cose qua Come potete vedere Eeeh Più o meno, sono sempre i soliti Niente, niente, niente di che Ci sono solo queste cose qua Più, un po' più difficili Vedete che Si comincia a farsi più Se C'è Comincio Caffanculo Ce la farò a passarci in mezzo la prima Ragazzi, scusate ma è una scommessa contro me stesso Porca troia Eh, oh no Ce l'avevo, ce l'avevo Ok, ultima volta Basta, ok ragazzi, scusatemi Scusate se perdo tempo in questo modo ma Cazzo, una scommessa contro me stesso Ogni tanto ci voglio anche provare Eeeh Sembra facile ragazzi No, non è vero Neanche Sembra facile Per per un cazzo Ok Eeeh Poi Questo qua cos'è? Scusate ma questo qua Wow, wow, wow Non l'ho mai vista sta cosa, ok Quindi C'è di nuovo Della roba nuova anche per me Super Meat Boy Cosa? Cosa sta accadendo adesso? Eh Livello 1 Ma cosa? Oh mio Dio Cosa è sta roba? Wow Ok Wow Ok Ah, là c'è un buco Ok, vai, 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 vai Oh Ok Ah, forse questi qua sono io Tipo i livelli impossibili bonus Boh Ok No 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 Da qua Merda No 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 C'è davvero Perché poi Dopo la prima volta che lo faccio Perdo la pazienza E non ho più voglia di farlo E' quello il brutto No, 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 no No Fa un culo Ah, posso rifarlo quando voglio Vabbè Il primo è fatto Allora, ecco qua è importante che ve lo faccio vedere Questo E' stato introdotto con questo nuovo strumento Questo nuovo oggetto Che emana un campo di forza Che ci fa fluttuare al di sopra dell'affare Della 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 pallina Come avete potuto vedere E' un bordello Saperlo usare Cioè Non è impossibile Saperlo usare Sperlo usare bene E' qualcosa di Difficile Guarda Come cazzo ho fatto a farne 5 In 10 minuti Ok Fanculo Impossibile ragazzi Cioè E' davvero difficilissimo Usare sta a fare Ma guarda Allora C'è Vabbè Ogni tanto riesco a farcelo Ogni tanto no Devo capire cosa cambia Da una volta all'altra Ma sinceramente Questo è fatto Terzo livello Ripe Decay Perché sto laggando? Non laggare Almeno te Uno dei pochi giochi che non mi lagga Wow Ok Wow Ok Piano No 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 Oh Fanculo Ok si può fare però eh Dai su Ok bravissimo Piano Ok Vai 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 Va bene No 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 Fanculo Questo qua è stato fatto Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Oggi stiamo facendo i livelli Questo qua Presumo sia troppo difficile Guarda Ho voglia di fare il 7 Guarda Ma che cazzo Allora Questo è nuovo Anche per me Oh merda Ok Cosa ho fatto Ho aperto quello Va bene Dov'è il tasto Ah ecco la link È lì a fanculo Ok È la chiave No 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 Ok va bene Poco male Si scende Merda Eh merda Questa cosa si deve prendere Per forza il volo Wow No Vabbè scendiamo anche noi Forse qua si può scendere No Non si può scendere È impossibile Prendiamo il volo Qua che è meglio Merda Ok So come andarla a prendere Ovvio ho visto un pertugio Aha Ok Anzi Forse conviene anche fare così È anche molto più comodo Ora Cioè molto più comodo No però comunque cioè È Abbastanza indifferente E ora cosa ho fatto Cosa ho fatto Vediamo se ho aperto una cosa qua sotto Anche se Ritengo Improbabile Cosa ho fatto Davvero ragazzi Forse devo Ritornare indietro Non ho idea Di cosa debba fare Non ho davvero idea Ah ecco è vero Là c'era la Tipa là No No Ok Uno è andato Sì devo ammettere però Che se si prende lì al volo Si fa molto molto prima Ok Ormai ho imparato la La tecnica Comunque sì ragazzi Ci ho fatto caso Che là c'era un Buco nero Tranquilli Oh 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 Dai 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 Guardalo Guardalo qua E ce la fa Farne un altro Dash Ah merda Wow questo è un casino Però è abbastanza Nuovo Meccanica Merda Meccanica è un po' nuova Fino Cominciò Cominciò a odiare Pure questo Ma che cazzo Ah Allora Così E poi cosa Senti Ditto Cosa fa Panculo A me stessa Me stessa Attenzione Attenzione Che questa roba punge Cominciò a odiare Sto livello Ok No Ma fa Pappero Pero E c'ho le poppe Pera Pera E c'ho le poppe Pera Ok Devo stare qua Sulla sinistra E poi Stare al centro Ma uh 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 Piano 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 Merda Se muoio qua Non lo faccio più Questo Eh Sì 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 Cazzo di Erezione Erezione Cos'è qua A fare lì Ah è un Mateboy Incazzato Questo Wow Superato Perché è stupido Ah ce n'è un altro qua Ok Superato anche questo Perché sono tutti stupidi Incompronto a me Dai 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 Ah Merda Ah Ok 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 Oh 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 Guarda come li supera Con un shalance Ragazzi Ragazzi Troppo Troppo Bravo No 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 Fa un culo Ok Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Wow Wow Merda No 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 Calma Ah Anche qua Uguale Di qua Prima Mi sa Ma che cazzo Devo fare lì Non ho capito questo Ah ma c'è Forse è un buco qua Non ci può Ma non so cosa devo fare Ah ma c'è una Eccola lì la chiave Ho capito Devo perdere tempo Ho capito Guardate eh Guardate Eccola lì la chiave Che sta scendendo Venite voi Ok Venite anche voi No ma dai Ma che cazzata Questa però Questo qua Mica Incazzato subito Te 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 Venite Venite Ok Stupidi idioti Merda C'è sempre Il terzo che mi frega E ora Eh si però Qua come cazzo faccio E ora qua Come faccio Mi sta prendendo In giro Spero Ma Aspettate Prima devo capire Com'è che posso arrivare là Perché Non posso fare L'imbalzo Sulla parete A Sì a sinistra Mentre Se lo faccio Su quella a destra Non so quanto Mi conviene Per Ma come faccio Vabbè Questo lo conto Come è fatto Siamo a L'undici E sto poco al video Ci vediamo nella prossima parte Asciutto mi piace Il commento Dimenticate falso La famiglia Adesso sono tutto Pai ragazzi Ciao